Sindaco Alessandrini, state lavorando per controllare gli edifici pubblici e privati, le scuole della città di Pescara non si registrano, lo diciamo subito, delle particolari criticità? Madre Terra ci ha dato molto da fare in questi ultimi giorni perché questa serie di scosse telluriche che si susseguono naturalmente chiamano il giorno dopo immediati controlli e sopralluoghi. Già li abbiamo svolti nei plessi scolastici di ogni ordine grado e negli edifici pubblici, evidentemente abbiamo la necessità di svolgere aggiornamenti ma fin qui non è emerso nulla di particolarmente preoccupante se non naturalmente questa brutta sensazione di risvegliarsi con la terra che trema. State controllando anche gli impianti sportivi, in particolare lo stadio adriatico? In particolare lo stadio adriatico ma non solo, sono emerse delle criticità però nulla che possa sfuggire al controllo, adesso naturalmente ritorneremo, consapevoli che comunque questa ultima scossa di domenica non ha peggiorato la situazione e quindi diciamo ci occuperemo di mettere in sicurezza anche lo stadio. Quanto riguarda le scuole, domani è giornata di festa, gli istituti resteranno chiusi, dopodomani riapriranno regolarmente in città? Dopodomani riapriranno regolarmente in città naturalmente salvo sopravvenienza che naturalmente non ospichiamo. C'è anche un'altra problematica con alcune persone che vanno nelle case dei cittadini pescaresi, sta accadendo in queste ultime ore spacciando per tecnici comunali? E sì, ci segnalano anche questa cosa molto odiosa cioè di finti tecnici comunali che stanno svolgendo presunti sopralluoghi nelle case private, invitiamo i cittadini naturalmente a diffidare da quanti si dovessero presentare in questa veste in quanto non sono previsti sopralluoghi da parte di diciamo tecnici comunali nelle edifici privati.